Buonasera, mi trovo qui a Campora San Giovanni alla manifestazione Ottavo Festival della Cipolla Rossa di Calabria. Sono stato invitato dalla Proloquo di Campora San Giovanni che ringrazio per questo invito. È un invito importante, è una manifestazione importante perché è uno dei prodotti tipici della zona. Crea economia, crea lavoro e dà degli sbocchi abbastanza consistenti. Non bisogna perdere di vista il risultato finale e quindi dobbiamo cercare di rivalutare ancora di più questo prodotto affinché possa dare sbocchi lavorativi e non finire semplicemente alla sola produzione ma cercare anche ulteriori sviluppi per quanto riguarda altre tipologie sempre sulla base della cipolla.